Per me vivere la fede significa rendere partecipe Dio delle mie giornate, della mia vita. Cioè Dio come appunto è nelle mie giornate, è anche con me all'università, nei momenti in cui in famiglia, con i miei amici, nel caso esco con un ragazzo. Dio per me che non è un Dio magari lontano, ma appunto un Dio alla quale chiedere aiuto e con il quale passare dei momenti come magari per potervi raccontare sia magari delle mie preoccupazioni, sia i miei desideri o affidarmi ad esempio delle persone care che so che sono in difficoltà o anche magari dei miei amici pregando per loro. E offrendo sia lo studio diciamo per delle persone a me vicine oppure anche proprio per dei miei amici e sia in qualunque momento anche trovando, cioè vedendo Dio anche dietro magari quella persona che incontro, quel sorriso e quegli occhi diciamo che incontro nelle mie giornate. E sia appunto rendere molto partecipe Dio della mia vita, quindi incontrarlo proprio nelle mie giornate e non lasciarlo fuori da quella appunto che è la mia normalità. E questo mi aiuta appunto anche molto a vivere la mia fede come un qualcosa di molto bello che mi rende appunto molto felice. Grazie a tutti.